carissimi benvenuti alla trattoria del borgo siamo a monteveglio sui colli bolognesi in valsa moggia il piatto che vorrei presentarvi questa sera l'ho pensato e realizzato sette anni fa l'idea era proprio quella di scegliere alcune delle eccellenze della nostra regione e riassumerle all'interno di un piatto quindi ho scelto di come filo conduttore la via emilia il piatto che vorrei proporvi raccontarvi ravioli di cipolla gialla di medicina pecorino di fossa burro parmigiano e aceto balsamico tradizionale se volete lo finite con un pochino di prosciutto di parma croccante aggiungo un pizzico di sale e un pizzico di zucchero abbiamo finito di rosolarle andiamo all'assaggio so se si sono buone cominciamo a fare i ravioli grazie a tutti Grazie a tutti. Ecco qua i ravioli. Andiamo a impiattare. Mi raccomando, quando fate questo piatto non fate i plumoni con il burro e il pecorino perché è il suo condimento. Devono essere ben conditi. Ravioli di cipolla gialla di medicina, pecorino di fossa, burro parmigiano e aceto balsamico tradizionale. E se vi piace un pochino di prosciutto croccante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.